Vai Puglia e Medimex Turismo e Musica in vetrina dal 30 ottobre alla Fiera del Levante. La seconda edizione del Borsino Turistico porterà a Bari 227 compratori provenienti da 37 paesi esteri, tratture operatori e agenzie di viaggio, che si confronteranno con 170 operatori pugliesi interessati a vendere i variegati segmenti dell'offerta regionale. L'edizione 2013 ha rivelato che l'80% dei partecipanti ha poi effettivamente acquistato i pacchetti Puglia. Non a caso l'incremento dei visitatori stranieri è aumentato del 5% sugli arrivi nei primi mesi del 2014 e del 2% in più sulle presenze. Il meeting offrirà ai buyers la possibilità di vivere esperienze di viaggio dal vivo nell'ambito di 10 itinerari prestabiliti, tra cui Salento, Monti Dauni, Valle d'Itria, Altamurgia, Gargano, obiettivo inserire la Puglia nei cataloghi internazionali, un'operazione facilitata dal mix di offerta presente a livello regionale, dove in abbinata al mare si ritagliano spazi di interesse ed attrattività, l'arte, la cultura, l'enogastronomia, i grandi eventi. Per noi si tratta di guardare a un pubblico internazionale che è sempre più esigente alla varietà degli ingredienti che sono nel paniere dell'offerta turistica, perché su questa partita noi giochiamo tanta parte del nostro futuro.